Ennesima vittoria del Napoli! Il Super Napoli gestito dal mitico il solo e l'unico Antonio Conte schiaccia il Torino, una vittoria super schiacciante ragazzi. Allora, amici, oggi parliamo di una partita specialmente epica. Il Napoli domina il Torino e stravince la partita. Sì ragazzi, una prestazione da incorniciare e si conferma ancora per l'ennesima volta ormai fisso da oltre due mesi e mezzo prima in classifica. Una squadra devastante orchestrata magistralmente da Antonio Conte. Questo video ragazzi vi farà rivivere i momenti più emozionanti della partita e analizzeremo insieme come Antonio Conte ha trasformato il Napoli in una perfetta macchina da guerra ragazzi. Come già passa fatto. Prima di iniziare ricordatevi però di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, attivare la campanellina per non perdervi nessun video. Condividere questo video su tutti i social e se volete supportarmi trovate il mio link su Paypal e insieme al mio IBAN se volete sostenere economicamente il mio canale. E ora entriamo nel vivo. Allora, praticamente ragazzi. Allora, il primo tempo praticamente è stato non gestito, è stato stragestito dal Napoli. Fin dai primi minuti la squadra di Conte ha impostato il suo ritmo schiacciando il Torino nella propria metà campo. E parliamo subito del gol che ha deciso la partita. Una magica tattica orchestrata da Conte. Al 31esimo del primo tempo il giocatore che vince salta l'uomo con una facilità incredibile e serve un assist perfetto per Tominay. Che con un destro fulminante batte Savic sul primo palo. Gol spettacolare ragazzi. Ma non è stato l'unico momento emozionante del primo tempo. Perché ci sono stati altri tanti momenti. Ci sono stati altri episodi da brividi. Al 23esimo Lukaku tenta un colpo di tacco incredibile sul cross di un altro giocatore. Craveglia come cacchio si chiama. Ma il portiere del Torino compie un vero miracolo. Poi al 24esimo ancora Kvara a rendersi pericoloso con un colpo di testa ravvicinato. Ma Savic si supera di nuovo. Il Torino una squadra inesistente. Solo qualche tentativo sporiatico. Giusto il portiere ha combinato veramente qualcosa. Poi l'unica occasione del Torino è stata di Coco al 37esimo. Ma è evidente che il Napoli fa un campionato a parte proprio. Cioè è su un altro pianeta. Poi nel secondo tempo. Beh se pensavate che il Napoli potesse calare nel secondo tempo. Vi sbagliavate proprio di grosso praticamente. Il Napoli non si è fermato qui. La ripresa è stato un altro capolavoro di gestione da parte di Antonio Conte. La squadra ha continuato a stradominare dimostrando la mentalità da campioni. Al 59esimo Giovanni di Lorenzo sfiora il raddoppio con un colpo di testa che esce per un soffio. Poco dopo ancora Lukaku a creare pericoli con una giocata da manuale. Che Politano non riesce a concretizzare. Vabbè non è che sempre dieci gol a partita. Ragazzi questo è il Napoli di Conte. Organizzazione, determinazione, spettacolo. E attenzione ai cambi. Conte è un maestro a leggere le partite. All'ottantesimo toglie Crevescia per mettere Neres. Dando freschezza ancora di più all'attacco. Quindi rafforzandolo. E non dimentichiamo il lavoro mostruoso di Anguissa e Tominaia a centrocampo. Che hanno annullato ogni tentativo del Torino di rientrare in partita. Quindi proprio non solo l'attacco alla difesa ma anche un centrocampo che ha veramente dominato tutto il campo. Ragazzi siamo di fronte a un qualcosa di straordinario. Questo Napoli è destinato a grandi cose. E con Antonio Conte al timone praticamente il campionato è già vinto dal Napoli. Voglio sapere cosa ne pensate secondo voi. Riuscirà il Napoli a mantenere il primo posto fino alla fine della stagione? Io già lo so. Scrivetelo nei commenti. Voglio leggere le vostre opinioni. Ricordate di lasciare un bel like. Iscrivervi al canale. Attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Condividete questo video su tutti i social. Mandatelo a tutti i link di questo video su tutti i vostri amici. E se volete supportare il mio lavoro trovate il mio Paypal e il mio IBAN sulla descrizione di questo video. Ogni contributo è fondamentale per continuare a portarvi contenuti di alta qualità. Grazie a mille per il vostro supporto. Ci vediamo al prossimo video ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.